Buonasera, intanto ringrazio il professor Luca Richeldi che anche questa sera mi accompagna nella conferenza stampa. Il professore Luca Richeldi è il primario di pneumologia del Policlinico Gemelli di Roma ed è componente del Comitato Tecnoscientifico. Ringrazio anche la nostra interprete Victoria Caricato che oggi è qui con noi. Partiamo con i dati di oggi. Ad oggi il totale delle persone attualmente positive è di 93.187 con un incremento rispetto a ieri di 1.941 pazienti. Di questi 3.898 sono in terapia intensiva. Quello che voglio evidenziare è che per il terzo giorno consecutivo il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva è negativo. Quindi un alleggerimento di 79 pazienti dalla terapia intensiva. Il numero dei ricoverati è 28.976, sono quelli che sono ricoverati con sintomi, mentre la maggior parte dei pazienti 60.313 pari al 65% del totale sono in isolamento domiciliare senza sintomi e con sintomi bilievi. Purtroppo anche questa sera dobbiamo dare il numero dei deceduti. Sono 636 nuovi deceduti. Il totale dei guariti invece è di 22.837 unità. Rispetto a ieri sera sono 1.022 le persone che sono guarite. Un altro dato che voglio dare è il dato delle somme che sono state raccolte sul conto corrente della donazione del Dipartimento della Protezione Civile. Siamo arrivati a oltre 107 milioni di euro, 107 milioni per l'esattezza 556.081 euro, una somma molto importante che sarà utilizzata per l'acquisizione di DPI per ventilatori e il potenziamento delle strutture sanitarie. Rispetto a ieri abbiamo speso su questo conto corrente ben 6 milioni e 400 mila euro. Il totale delle somme finora impiegate è di oltre 19 milioni di euro. Le forze in campo sono sempre consistenti. Abbiamo 16 mila 281 volontari impiegati che si aggiungono a tutte le altre forze delle componenti e delle strutture operative di protezione civile. Il numero delle tende di pretriage rimane inalterato sia per quelle che sono all'esterno degli ospedali che quelle che sono all'interno dei penitenziari. Voglio dare anche un'altra notizia nella serata di ieri ho firmato un'ordinanza di protezione civile che prevede l'istituzione di un fondo per destinare provvidenze nei confronti dei familiari, dei sanitari che sono deceduti durante questa emergenza. Si tratta di un fondo che è alimentato dalla famiglia della Valle. Voglio ringraziare il dottor Diego della Valle che si è fatto promotore di questa iniziativa che noi abbiamo prontamente condiviso e che porteremo avanti nei confronti di tutti coloro i quali sono rimasti orfani e sono rimasti senza un proprio familiare che era impegnato nelle attività sanitarie in favore della popolazione. Questa mattina voglio anche ricordare che è arrivato un aereo di attrezzature, di dispositivi di protezione individuali donato dal governo cinese all'Europa e grazie al meccanismo unionale di protezione civile, il meccanismo europeo di protezione civile, questi dispositivi di protezione individuali sono stati interamente trasferiti al nostro Paese. Quindi ringrazio per questo, per questo bel gesto di solidarietà. Poi permettetemi di ricordare che oggi per me è una data indimenticabile come per molti aquilani e abruzzesi. Ricorre l'undicesimo anno dal terremoto del 2009, un terremoto che ha provocato 309 vittime e ha provocato decine di migliaia di sfollati. Quest'anno non ho potuto partecipare alla fiaccolata che ogni anno si tiene in occasione della ricorrenza. Non abbiamo potuto partecipare tutti quanti alla fiaccolata. Io voglio stringermi nel silenzio del ricordo alle famiglie delle vittime, agli aquilani e voglio anche ricordare tutti quanti i soccorritori che nel corso dell'emergenza sono intervenuti in numero assai cospico. Io mi fermo qui. Darei la parola al Professore Richeldi. Prego Professore. Grazie Dottor Borrelli. Un rapido commento. Prima del commento, col suo permesso, vorrei salutare un collega e un amico. Il Dottor Nicola Magrini, come sapete dagli organi di stampa, ha avuto una diagnosi di infezione da coronavirus e quindi è isolato. Lo saluto a distanza. Ho avuto modo di scambiare qualche messaggio con lui. L'ho trovato in ottima forma sia fisica che psicologica. Sta continuando a lavorare. Sapete Dottor Magrini è il direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco ed ha un ruolo ed una responsabilità cruciale nella ricerca di nuovi farmaci e nuovi interventi per il controllo di questo virus. Quindi credo che a nome della Commissione Tecnico Scientifica e a nome di tutta la comunità lo salutiamo e gli auguriamo una prontissima guarigione. I dati di oggi ci confermano sostanzialmente il trend che abbiamo visto ormai da qualche giorno. E' un trend certamente che conforta nel vedere una efficace misura di contenimento della diffusione dell'infezione virale. Se guardiamo i dati su base settimanale, quindi guardiamo lunedì 30 marzo e lunedì 6 aprile, confrontando ad esempio il numero dei ricoverati, abbiamo una riduzione di oltre il 90 per cento, essendo andati da 409 a 27. Questo trend è confortato ovviamente da un andamento che è molto importante che è quello dei ricoverati nelle terapie intensive. Come sappiamo le terapie intensive hanno rappresentato un po' il punto cruciale di questa epidemia, perché molti pazienti avevano bisogno di terapie intensive. Avevamo un saldo positivo di 75 ricoverati in terapia intensiva il 30 marzo. Abbiamo un saldo negativo di meno 79 ricoverati in terapia intensiva oggi, quindi 79 persone che sono state dimesse dalle terapie intensive. Un trend un po' meno forte si vede anche sui decessi. Questi decessi purtroppo si concentrano ancora per il 50 per cento in un'unica regione che è la Lombardia, che come sapete ha avuto il maggior numero di casi, il maggior numero di decessi, ma comunque su base settimanale vediamo una diminuzione superiore al 20 per cento anche nel numero dei decessi e vediamo che durante questa settimana sostanzialmente il numero è andato sempre calando, anche se in misura meno significativa rispetto ai ricoverati e ai pazienti in terapia intensiva. Ricordo che i decessi fotografano una situazione di pazienti che sono stati ricoverati qualche settimana fa nelle terapie intensive nei reparti e quindi hanno bisogno di tempo per calare in maniera più significativa rispetto a quelli che sono i ricoveri o quelle che sono le terapie intensive. Un ultimo commento che vorrei fare è chiaro che questi dati sono dati confortanti, come già detto più volte e come già ribadito dalla Commissione Tecnico-Scientifica, come ribadito dal Ministro e come ribadito sostanzialmente da tutte le persone coinvolte, questi sono gli effetti di contenimento che vediamo dalle misure che sono state implementate qualche settimana fa e che sono state prolungate fino alla data del 13 di aprile. Quindi questi sono gli effetti principalmente di quelle misure di distanziamento sociale che sono state messe in atto. L'avere riscontrato questo effetto ovviamente ci deve rafforzare ancora di più nel mantenimento di queste misure. Ovvio che le decisioni dopo il 13 aprile saranno decisioni prese a livello politico, ho sentito il parere della Commissione Tecnico-Scientifica, ma credo che abbiamo sotto gli occhi tutti noi in maniera abbastanza rassicurante e confortante il risultato dei nostri sforzi quotidiani. Allora diamo spazio alle vostre domande. Buonasera Cecconi Tg3. Oggi l'Ordine dei Medici della Lombardia ha steso di fatto in sette punti un'analisi di quelli che secondo loro sono stati gli errori fondamentali per la Lombardia in particolare. Li riassumo ulteriormente in due punti fondamentali. Troppi pochi presidi di protezione per i medici e troppi pochi tamponi, soprattutto nella prima fase. È chiaro che con il senno di poi diciamo è tutto più facile. Chiedo a voi, c'è un errore o alcuni errori che con il senno di poi ovviamente non stiamo accusando nessuno, vi rimproverate? Cioè cose che avreste fatto diversamente nella gestione diciamo iniziale della della crisi? Provo a rispondere io. Credo che questo virus è un nemico invisibile che ci ha colpito tutti quanti all'improvviso. Quindi è stato un periodo nel quale non siamo riusciti anche a livello medico, credo, a verificare e a contenere, ad adottare le misure che sono poi state perfezionate. Si è trattato di un lavoro immane da parte dei medici della Lombardia e sono convinto che meglio di questo non si potesse fare, sinceramente. Io credo che i medici della Lombardia abbiano fatto tutto quello che era nella loro conoscenza, nelle loro possibilità, con gli strumenti che erano disponibili. Se posso aggiungere un commento a questo concordo con quanto ha detto Dottor Borrelli. certamente anche queste analisi sono analisi che sono meritorie perché ci devono indurre magari a imparare dalle esperienze. Credo sinceramente che in una situazione di tipo catastrofico in cui si è trovata la Lombardia in quei momenti fosse veramente impossibile fare di meglio e fare di più. Certamente imparare dal passato e imparare da quello che è successo sarà una cosa che dovrà servire per il futuro. Angela Capondetto, Rai News 24. I dati sono meno allarmati, questo lo possiamo dire, l'abbiamo detto, ieri abbiamo addirittura sentito parlare di una ipotetica fase 2, se ne parla parecchio. Oggi anche da più parti si chiede se questo Comitato Tecnico Scientifico sta già pensando a come affrontare questa fase 2, dal Ministro Bonetti per esempio viene una richiesta di cominciare a pensare anche ad aprire qualche piccola attività produttiva, cioè il Tavolo Tecnico si sta muovendo anche per pensare in anticipo, ovviamente noi sappiamo che per il momento non possiamo pensare che la prossima settimana partiremo con una fase 2, ma possiamo già prepararci in anticipo con delle strategie per cominciare una fase 2? Allora, la data che noi abbiamo a disposizione è la data del 13 di aprile. Il Comitato Tecnico Scientifico sta facendo le sue valutazioni, poi spetterà, una volta che saranno fatte le valutazioni tecnico-scientifiche, al decisore politico, al Consiglio dei Ministri, decidere poi la data e le modalità con cui si esplicherà la fase 2. Noi lavoriamo tutti i giorni, sicuramente. No, allora il Comitato Tecnico Scientifico sta lavorando, la Presidenza del Consiglio dei Ministri sta lavorando su queste cose, ma è evidente che la decisione sarà presa quando ci sarà anche un quadro definito dal punto di vista tecnico-scientifico. Ecco, se posso aggiungere una cosa, lei ha detto che i dati non sono allarmanti, i dati sono meno allarmanti. Ricordiamoci che abbiamo avuto 2.000 nuovi contagi in più e 600 morti in più. Quindi l'andamento che vediamo ci deve essere di conforto, ma certamente non ci deve fare ridurre il livello di allarme perché questi dati sono ancora dati allarmanti. Paola Motta, SkyTG24. Buonasera. Dottor Borrelli, lei è il Capo della Protezione Civile. Ha ricordato prima quanto la protezione civile sia importante per il nostro Paese, quasi un'ancora di salvezza per gli italiani in determinati momenti. Mi riallaccio alla domanda della collega. Il Presidente del Consiglio ha sempre detto che per la sua decisione politica terrà conto delle raccomandazioni e delle valutazioni del Comitato Tecnico Scientifico. La chiusura per ora dell'Italia è prevista al 13 aprile. Oggi è il 6 aprile. Significa una settimana. Qual è secondo lei l'ultima data in cui voi, come Comitato Tecnico Scientifico, darete le vostre valutazioni al Presidente del Consiglio Conte per decidere se riaprire in che termini l'Italia o se invece prorogare le misure di chiusura? Allora, intanto una questione organizzativa. Io non faccio parte del Comitato Tecnico Scientifico, ma io credo che il Comitato Tecnico Scientifico darà per tempo le indicazioni di carattere scientifico al Presidente del Consiglio dei Ministri. Non penso proprio che si arriverà all'ultimo momento. Questo ovviamente tutto dipenderà dalla valutazione del Comitato Tecnico Scientifico e dalla decisione che sarà poi presa dalla Presidenza del Consiglio, dal Consiglio dei Ministri e dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Capisco che lei non si voglia sbilanciare, ma il Comitato Tecnico Scientifico queste valutazioni e raccomandazioni le esprime attraverso un report, attraverso un verbale, attraverso un documento pubblico? Le esprime attraverso un verbale. Se posso integrare una considerazione. Le raccomandazioni saranno tanto più informate e tanto più precise quanti più dati saranno disponibili. Ovvero i dati di trend che l'Istituto Superiore di Sanità sta raccogliendo giorno per giorno sono estremamente importanti per capire qual è l'andamento dell'epidemia. Non solo a livello nazionale, ma nelle varie aree geografiche. E' chiaro che più ci avviciniamo alla data del 13 di aprile e più questa informazione diventa granulare, cioè diventa informativa. Io non credo che il Comitato Tecnico Scientifico aspiterà due ore prima, ma non può nemmeno formulare delle indicazioni che non tengano conto, ad esempio se formulassi un'indicazione oggi non terebbe conto di quello che succederà da oggi al 13. Quindi dovrà essere, secondo me e credo sarà, un compromesso tra avere il massimo di informazione dai dati, e questo si ottiene di giorno per giorno, e consentire un congruo periodo di tempo per dare luogo di fare un provvedimento legislativo che venga condiviso con le regioni e che venga poi recepito dai cittadini. Non è semplice. Non le ho detto che è semplice, le ho detto che è complesso. Buongiorno, Giuliano Bormioli, agenzia Nova. Vorrei chiedere al dottor Richeldi, sono ormai settimane che nei vari ospedali italiani si testano farmaci per contrastare l'infezione da coronavirus. Volevo sapere se adesso, passate alcune settimane, ci sono più evidenze su quali farmaci effettivamente funzionano e quali sono i migliori. E allo stesso tempo, se sempre in queste due settimane si sono fatti degli studi per appurare se altri farmaci, si era parlato ad esempio dell'ibuprofenemi, possono invece aggravare l'infezione e possono aver creato più problemi ai pazienti che lo assumevano per le loro cure. Grazie. Certo, un'ottima domanda e ne approfitto ancora per citare l'Agenzia Italiana del Farmaco. Il sito dell'Agenzia Italiana del Farmaco, che è aperto, libero e consultabile da tutti i cittadini, riporta due tipi di informazioni importanti. Uno, ci sono sopra delle schede sull'uso dei farmaci disponibili. E sono schede che sono molto ben fatte, molto informative, piuttosto sintetiche, ovviamente rivolte principalmente ai medici che questi farmaci prescrivono, ma disponibili anche per i cittadini che possono andare a vedere. Ce ne sono per l'idrossiclorochina, ce n'è una per gli antivirali e queste sono schede che sintetizzano e riassumono le conoscenze attuali e quali sono le indicazioni all'uso migliore. Rivolte principalmente ai medici, ma consultabili da tutti e anche dai cittadini. Secondo tipo di informazione disponibile sul sito dell'AIFA, sperimentazioni in corso e loro aggiornamento periodico. Ricordo che sostanzialmente tutte le settimane si sta incrementando il numero di sperimentazioni in corso nel nostro Paese. il professor Franco Locatelli, mi sembra non più tardi di domenica o sabato, ha fornito un aggiornamento puntuale di quello che si sta facendo. La commissione tecnico-scientifica dell'AIFA si riunisce su base quotidiana per valutare nuovi studi e nuovi farmaci. Quello che dice lei è vero. Col tempo si stanno accumulando dei dati che verranno resi pubblici nel momento in cui questa quantità di dati consentirà di dare delle informazioni affidabili. Ricordo che le sperimentazioni sono fatte proprio per questo, per acquisire una quantità di dati sufficiente per sperimentazioni affidabili. Le prime sperimentazioni partite, vi ricorderete quella sull'antiinterlochina 6, su Tocilizumat e su altri farmaci, stanno arrivando a un punto in cui verosimilmente l'AIFA sarà nel giro di qualche settimana in grado di dare dei risultati. E questo credo che testimoni non solo il lavoro dell'Agenzia, ma il lavoro anche dei medici e degli sperimentatori che viene fatto, ricordo, all'interno del Servizio Sanitario Nazionale. Invece che i farmaci potenzialmente dannosi non ci sono evidenzi ancora? Ecco, naturalmente la domanda era sui farmaci potenzialmente dannosi. Quando si sperimenta un farmaco non si sa se è di beneficio o se è di danno. È ovvio che quando si sperimenta è più probabile che sia di beneficio. Verranno resi pubblici anche risultati che eventualmente possano mettere in luce qualche effetto negativo di farmaci che al momento non sappiamo. Mi scusi se mi inserisco, però allora come mai nel report settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità c'è un paragrafo specifico sui farmaci assunti precedentemente dai pazienti deceduti in cui viene indicata una percentuale che è una percentuale del 40%. Non è una percentuale bassissima. Questo studio è stato pubblicato la prima volta due settimane fa. Ad oggi non si è verificato questo dato che ripeto è un dato del 40%. Lei sta facendo riferimento agli ACE inibitori immagino. Gli ACE inibitori sono farmaci che sono presi da una larga parte della popolazione in particolare dalle persone anziane e quindi sono un elemento che non è semplice da identificare come fattore di rischio. Perché? Perché una larga parte della popolazione in quella fascia d'essà assume uno di questi farmaci. Ci sono analisi in corso non solo nel nostro Paese ma a livello mondiale che non hanno ancora definito l'esatto livello di rischio di questi farmaci. Quindi al momento ancora non esistono dati solidi per dire che gli ACE inibitori rappresentino un vero fattore di rischio di mortalità dell'infezione da Covid-19. Grazie. Prego. Buonasera, Giuseppe Scarpa, messaggero. Per allentare la pressione sulle terapie intensive in certi casi, quando i pazienti Covid-19 iniziano a stare bene, si sceglie di spostarli a domicilio con l'ossigenoterapia. Tuttavia, così insomma ci viene detto, iniziano a scarseggiare le bombole per l'ossigenoterapia. Non c'è il pericolo che si crei un nuovo scenario tipo le mascherine? Sul tema delle bombole di ossigeno, noi abbiamo ricevuto una richiesta dei colleghi della Regione Lombardia che avevano evidenziato una criticità qualche giorno fa. Ci siamo anche mossi per fare una call al Meccanismo Europeo di Protezione Civile per avere le bombole a disposizione per acquisirle anche sul mercato. Al momento si sta valutando anche tutta una serie di iniziative. C'è un tavolo tecnico presso il Ministero della Salute per ovviare a questa carenza che però è stata gestita finora molto bene dalla Regione Lombardia. Quindi si sta gestendo e penso anche che il numero delle persone che sono in ospedale e il numero delle persone attualmente positive porterà anche un beneficio anche sotto il profilo dell'esigenza di disporre di bombole di ossigeno. Luca Laviola dell'Agenzia ANSA. Sulle mascherine c'è un dibattito molto acceso. Alcune regioni come la Lombardia e la Toscana hanno promesso di distribuirle gratuitamente o almeno in una prima fase gratuitamente. A molti di noi da un po' di giorni, da un po' di tempo, è venuto il sospetto che mi sembra diffuso anche nella popolazione che non venga data un'indicazione stringente di portare le mascherine anche fuori non solo per motivi strettamente scientifici ma perché c'è la consapevolezza che non ne esistono abbastanza e che non sappiamo quando ne saranno prodotte abbastanza. Quindi non solo per motivi scientifici, anche su quello c'è dibattito insomma anche in tutto il mondo, ma per motivi di realpolitik. È un sospetto fondato? Che non ci siano abbastanza mascherine ancora per tutti? Allora, io lascio parlare... Grazie, me ne immaginavo. No, io ho già dato. Ho già dato sulle mascherine. Dunque, guardi, il discorso delle mascherine è un discorso che è di discussione nell'ambito della comunità scientifica a livello globale direi. E non più di qualche giorno fa è stato pubblicato su una delle riviste più prestigiose che è l'Hanset, un punto della situazione che fa vedere svariate cose. Uno, che in diversi paesi e in diverse aree geografiche è che non c'è una raccomandazione all'utilizzo universale delle mascherine in nessuno di questi setting. Cioè, utilizzo universale vuol dire utilizzare la mascherina sempre e comunque. All'esterno, all'interno, a casa propria, sempre. Non c'è questa raccomandazione. Ci sono raccomandazioni abbastanza diverse e varie che in parte identificano anche diverse tradizioni. Lei si ricorderà probabilmente che noi abbiamo sempre visto negli aeroporti le persone di origini orientali, cinese, giapponesi, che già molti anni fa avevano questa abitudine di portare la mascherina chirurgica. Ovviamente questa è un'abitudine che è consolidata negli usi di un popolo che non era consolidata né da noi né negli americani né negli occidentali e che rappresenta anche un diverso stile di vita. Che per questo coronavirus le mascherine servano è certo e in particolare servono alle persone più esposte e parliamo degli operatori sanitari in primis ma parliamo anche delle persone convalescenti che devono portarle e parliamo delle persone più vulnerabili, più suscettibili, gli anziani, le persone con comorbidità. Quindi non credo onestamente che la mancata raccomandazione ad un uso universale sia relativa al fatto di poi incappare in una indisponibilità di queste mascherine. Si sta trovando il modo migliore e più razionale per l'utilizzo. Una cosa va ricordata credo che l'utilizzo della mascherina non ci rende invincibili. Cioè ci sono delle misure principalmente il distanziamento sociale e l'igiene delle mani che rappresentano delle misure di sicura efficacia. In altre parole, non è che se io porto una mascherina posso stare attaccato alle persone o mi scordo di lavarmi le mani o mi scordo di... Esatto, cioè può indurre un falso senso di sicurezza. Non è una corazza che ci protegge da tutto. Per gli operatori sanitari è uno strumento di difesa giusto e indispensabile. Per chi vive, diciamo, in un ambiente non professionale e quindi non è professionalmente esposto al virus può rappresentare, secondo me, un valido baluardo di difesa. Non deve certamente rappresentare uno strumento per abbassare la guardia su quelle misure che abbiamo visto dai numeri sono efficaci. Secondo lei nella cosiddetta fase 2 le useremo di più, molto di più? Guardi, io sulla fase 2 non prevedo niente perché è una fase che verrà gestita e che verrà disegnata sulla base di quello che succederà. Da quello che abbiamo visto in altri paesi e da quello che abbiamo visto in altri setting questo è possibile. È possibile che ci sia un uso più allargato delle mascherine che probabilmente sarà correlato anche a una maggiore sensibilità delle persone. Cioè, ricordiamoci che noi abbiamo passato settimane drammatiche stiamo passando settimane drammatiche che aumentano la nostra sensibilità rispetto a queste misure. Quindi io credo che ogni fase debba anche seguire la sensibilità delle persone. Io prevedo che la sensibilità delle persone anche all'uso delle mascherine sarà importante. Probabilmente la dovremmo usare nei posti in cui non sarà possibile il distanziamento sociale o in cui il distanziamento sociale è molto problematico. non prevedo, mi sembra abbastanza improbabile, prevedere un uso universale 24 ore al giorno della mascherina. Ma, ripeto, ricordiamoci come ha detto prima il dottor Vorrelli che questo virus è un virus che tre mesi e mezzo fa non era neanche sui libri di virologia. Quindi le informazioni stanno per essere raccolte. Stiamo imparando come le vie di trasmissioni principali e stiamo ovviamente imparando anche dalle nostre esperienze. Bene, grazie e buonasera. Buonasera.